Anche voi, anche perché la vostra squadra regala cose, gioia alla Rai Nantes e anche a Firenze. Sì, la Rai Nantes Water Bowl Ability è una squadra composta da tutte persone con disabilità diverse e abbiamo la fortuna di avere comunque tante ragazze e ragazze che partecipano a tutti i campionati e sono quattro anni che abbiamo grandi soddisfazioni e regaliamo quindi anche soddisfazione alla nostra società. Tra l'altro domenica prossima c'è stata tesi da un appuntamento importante dopo aver vinto la Coppa Italia che attende la Supercoppa Italiana. Come ci è arrivato a questo appuntamento? Ci arriviamo con fatica, con fatica perché comunque siamo tutte persone le più adulte e quindi si devono destreggiare tra lavoro, famiglia e altri. Ci arriviamo con grande voglia, grande voglia di andare e divertirci perché comunque il primo obiettivo è quello di divertirsi. Quattro Coppa Italia consecutive vinte, un campionato, una Supercoppa e ora andiamo a giocare contro una fortissima squadra, i Lions di Napoli, per cercare di comunque conquistare anche questo trofeo. Posso dire che oltre ogni limite, oltre ogni diversità, si fa un appello alle persone che ci stanno guardando per venire a giocare con voi? Assolutamente, questa è una cosa molto importante, direi fondamentale. Ciò che ci manca a noi, ma come un po' tutto il movimento italiano, è i partecipanti, gli atleti. Atleti perché comunque questi sport sono sport poco presenti, non vengono comunicati in maniera sufficiente, non è mai sufficiente, ci sono invece tanti ragazzi perché chi nasce con una disabilità alla fine, fin da piccolo, parte e lavora su questo e magari anche le famiglie lo spingono a fare sport. Chi ha avuto magari invece un incidente e si trova ad essere disabile, tipo me, ecco che gli si apre un mondo che non era il suo e l'essere consapevoli, sapere che esiste veramente questo modo di poter tornare a divertirsi, a fare attività sportiva insieme ad altre persone, senza però nessun limite, perché il limite è nella testa di chi guarda, non nel nostro. Infatti noi siamo tutte persone che ognuno ha le sue disabilità fisiche, giocano e si divertono. Quanto è importante il vostro esempio affinché appunto altri ragazzi che soffrono di disabilità magari mettono da parte la paura e si tuffino. Fondamentale. Ho purtroppo conoscenza di tanti ragazzi che dopo incidenti, ripeto, un ragazzo, soprattutto giovane, un ragazzo, una ragazza, viene a essere stravolto. La sua vita è veramente stravolta se si parla di un incidente. Tante volte si rinchiude nel loro stessi e questo invece permette questo sport, questo tutti gli sport di disabilità, ma ovviamente venite a giocare a pallanotto con noi, apre comunque veramente un portone a queste persone che invece che stare su un divano a giocare alla Playstation, ecco che ritornano a fare attività fisica insieme a persone, con persone, che non vedono loro se non come un'altra persona che ha un problema fisico, ma che non è limitante proprio a livello sociale, anzi. Ed è questo che noi dobbiamo combattere, ecco perché chiediamo a tutti voi, queste sono le occasioni per dire, avete, conoscete qualche ragazzo, qualche ragazza che ha una disabilità fisica, benissimo, portatelo da noi, si divertirà. Un unico come anche lo staff, Laura Perego e Allegra Lapi, perché sono due ragazze straordinarie che vi seguono e ballenano. Assolutamente, hai detto una cosa importante, Allegra Lapi e Laura Perego, le nostre due coach, le nostre due allenatrici, ci seguono fin dall'inizio, fin dagli esordi, ci hanno seguito, ci hanno dato tutte quelle capacità tecniche che attualmente abbiamo, perché ricordiamoci, noi non veniamo dall'agonismo e dalla pallannuoto, quindi siamo vergini di questa attività sportiva, e grazie a loro, al loro impegno, al loro tempo, riusciamo e oggi andiamo a combattere per un'ennesima Supercoppa. Grazie e in bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie.